I live action Disney stanno diventando un vero e proprio marchio di fabbrica della casa di Topolino, ma quali sono i prossimi live action in arrivo al cinema per i prossimi anni? Scopriamolo insieme. La Sirenetta e Peter Pan e Wendy sono solo gli ultimi due live action dedicati ai grandi classici dei cartoni animati che siamo abituati a conoscere, anche se sono stati al centro di molte polemiche. Queste due pellicole hanno sicuramente attirato l'attenzione di molti fan e della critica, sicuramente, in quanto sono stati presi di mira per la scelta del cast e per i diversi cambiamenti che sono stati apportati alla trama, ma soprattutto ai personaggi che vediamo protagonisti. Per quanto riguarda la Sirenetta, infatti, Ariel è interpretata da Hal Bailey, un'attrice afroamericana che in molti non hanno apprezzato per appunto il suo diverso approccio al personaggio e la poca somiglianza con l'Ariel che tutti conosciamo. Ma quali sono i prossimi live action Disney confermati dalla casa di Topolino e quali progetti sono in lavorazione in attesa di conferma? Andiamo a vedere e capire cosa ci aspetterà nei prossimi anni per prepararci al peggio, visto che in molti non hanno apprezzato la Sirenetta, anche se gli incassi del film dedicato ad Ariel e al mondo sottomarino sono stati veramente ottimi per la Disney, superando i 100 milioni di dollari al primo weekend. Partiamo con un grande classico che tutti amiamo, ovvero Bianca Neve e i Sette Nani. Questo è uno dei live action che sicuramente arriverà nei prossimi anni e sappiamo già chi dirigerà il film, ovvero Mark Webb, che abbiamo già visto alla regia per The Amazing Spider-Man con protagonista Andrew Garfield. Bianca Neve invece sarà interpretata da Rachel Ziegler, protagonista del film diretto da Steven Spielberg, ovvero West Side Story, mentre la regina cattiva sarà interpretata dalla nostra amata Wonder Woman, Gal Gadot. Sappiamo già l'interprete del primo dei Sette Nani, ovvero Brontolo, e sarà interpretato da Mark Klebba. Anche qui sono già divampate le polemiche per la scelta di Rachel Ziegler come Bianca Neve, ma sicuramente la Ziegler è una bravissima attrice come abbiamo visto in West Side Story e attendiamo cosa dirà il grande pubblico, ma qualcosa mi dice che ne sentiremo delle belle e magari ci piacerà lo stesso. Vediamo come verrà reinterpretato il live action dedicato a Bianca Neve e i Sette Nani. Proseguiamo con un live action che mi interessa parecchio. A differenza di Bianca Neve e i Sette Nani, sicuramente questo live action ha qualcosa da raccontare, perché non riporta una storia che conosciamo già, ma si andrà ad approfondire un personaggio che tutti amiamo ed abbiamo amato durante la nostra crescita per quanto riguarda questi tipi di film, ovvero Mufasa, The Lion King. Il prequel del Re Leone sarà diretto da Barry Jackins e scritto da Jeff Nathanson e racconterà la storia di Mufasa, un giovane leone orfano che divenne appunto il re. Aaron Peer darà la voce a Mufasa, ancora non si conosce il doppiatore italiano, ma conosciamo quelli inglesi, quindi Scar che sarà doppiato da Calvin Harrison. Il film uscirà nelle sale nel 2024, io con questi tipi di film ho un piccolo problema, come anche nel film della Sirenetta, la CGI reale, quindi gli animali realizzati in CGI sono terrificanti, ma non nel senso cattivo. vedere un granchio che canta baciala, un vero granchio non con le espressioni fasciali e con il sorrisino che tutti conosciamo, che è Sebastia nella Sirenetta, il cartone animato, ma un granchio con i dentini è da horror. E quindi, come è accaduto per il Re Leone, gli animali in CGI reale, molto realistica, che ballano sono un po' difficili da digerire, possiamo dire così. Anche Mufasa The Lion King arriverà nel 2024, così come il prossimo live action Disney programmato per l'estate del 2024, ovvero Lilo e Stitch. In attesa di capire quanto peserà sulla pubblicazione di questi film lo sciopero degli sceneggiatori, sappiamo che Lilo e Stitch ha iniziato già il casting per gli attori e dalle prime foto siamo tutti molto eccitati, perché forse abbiamo la fedeltà rappresentata al cinema, perché come abbiamo visto dalle foto, molti dei personaggi sono veramente simili a quelli visti nel cartone animato che tutti conosciamo. Attori poco conosciuti scelti appositamente per interpretare questi personaggi dedicati a Lilo e Stitch, Maya Kealoha è Lilo, Sydney Hogdong interpreterà la sorella grande, ovvero Nani, Zach Galifianakis alla parte dello scienziato folle, il dottor Jumba Jukiba, Billy Magnussen vestirà i panni dell'agente Plinkley, e Courtry B. Vance interpreterà Cobra Bubbles. Insomma, molti dei personaggi sono veramente simili, quindi questo potrebbe essere una grande occasione per rialzare il livello dei live action e far avvicinare il grande pubblico a questi tipi di film, magari apprezzarli un pochino di più. Proseguiamo con un live action che secondo me non ha molto senso, in quanto quello di Oceania o Moana in America è quello più recente di live action Disney, ma forse è quello su cui si punta di più, perché The Rock ha già annunciato che interpreterà Maui nel film, e non abbiamo altro ancora su cui parlare, ma è evidente che l'entusiasmo dimostrato da The Rock nella presentazione nello spot ben dedicato ad Oceania è stato grandioso, soprattutto perché ha raccontato che si è ispirato a suo nonno per il disegno di Maui insieme ai produttori del film, quindi è evidente che amerà moltissimo questo progetto, così come ha amato doppiare Maui nel cartone animato. Ancora non abbiamo una data per Oceania, ma è evidente che ci si punta moltissimo, soprattutto per la presenza di Dwayne The Rock Johnson. Altro live action già annunciato è quello degli Aristogatti, che come Lili il Vagabondo unirà due tecniche produttive, quella della presenza con gli attori e la realizzazione in CGI dei personaggi, quindi appunto gli Aristogatti. non so se arriverà direttamente in sala o solo su Disney+, come accaduto per Lili il Vagabondo, ma se è come Lili il Vagabondo ho bassissime speranze, perché hanno cambiato anche qui le etnie dei personaggi, no, che mi pesi moltissimo, ma è evidente che Lili il Vagabondo non ha avuto il successo sperato su Disney+, in molti non l'hanno guardato, proprio per i troppi cambi sul racconto e proprio sui protagonisti del film. Quindi attendiamo gli Aristogatti, ma non ho tutta questa ansia di guardarlo. Altro film per il quale sono preoccupato, ma che sappiamo che è in lavorazione, sarà il live action di Hercules. Non sappiamo chi interpreterà il semi-Dio, ma è evidente che c'è una persona che deve interpretare Ade, ovvero Benedict Cumberbatch. Il primo live action che potrebbe arrivare in un prossimo futuro è quello del Gobbo di Notre Dame. In molti hanno ancora più paura di questa realizzazione, soprattutto perché è uno dei live action più amati anche da me, è il mio live action preferito, quindi occhio Disney, potrei farvi causa. Ed è evidente che stanno ben pensando alla realizzazione di questo film, ma il problema principale è capire come metterlo a schermo. Secondo alcuni rumor, Josh Gad potrebbe interpretare il Gobbo di Notre Dame, un Gad che abbiamo visto nel ruolo di Letonte, nella Bella e la Bestia. Lui è bravo, balla, canta, ed è anche un bravo attore. Ce lo vedrei bene con il trucco adatto ad interpretare Quasimodo? Potrebbe funzionare. Per il resto non sappiamo cosa ci riserverà il futuro per quanto riguarda il Gobbo di Notre Dame. Gli unici rumor sono questi. Speriamo bene e gli incrociamo le dita. Altro live action in arrivo, o meglio, nei progetti del Disney, è quello di Cenerentola. L'unica cosa che sappiamo di questo live action è la scelta del regista, ovvero Steven Chbosky. Abbiamo visto all'opera appunto l'autore in Wonder ed è evidente che è stato molto bravo. Per il resto non sappiamo né la scelta del cast né cosa tratterà principalmente o se avrà un cambiamento radicale al suo interno. Per il momento il regista è una buona scelta, ma attendiamo il futuro per avere ulteriori dettagli. Altro live action, proseguiamo con questa carrellata di live action in progetto per la Disney, ovvero quello di Robin Hood. Robin Hood, il principe dei ladri, sarà diletto da Carlos Lopez e Strada. Ed anche qui avremo la tecnica mista che ci presenterà i personaggi antropomorfi come la volpe che sarà Robin Hood e come abbiamo visto appunto in Lili il vagabondo. Probabilmente anche questo arriverà direttamente sulla piattaforma streaming quella appunto della Disney e vedrà protagonisti, personaggi in CGI divisi dai protagonisti umani. È evidente che questo live action potrebbe portare a altre polemiche in quanto è molto difficile realizzare un film del genere e un Robin Hood così come lo conosciamo potrebbe creare molti problemi. Altro live action che sarà come il Re Leone, quindi, con la CGI e gli animali iperrealistici, ovvero quello di Bambi. Il remake del piccolo Cerbiatto non sappiamo quando arriverà e se arriverà al cinema o sulla piattaforma streaming ma questa tecnica sta abusando e riempiendo moltissimo questi live action appunto dedicati agli animali che parlano e cantano. Quindi incrociamo le dita ma non ho per niente curiosità a guardare questo live action. La Disney non ha ancora abbandonato l'idea di un musical dedicato ad Oliver Twist. sembra che l'ispirazione principale sia quella del musical Oliver debuttato a Londra ed arrivato tre anni dopo a Broadway. È evidente che però ci sono moltissime difficoltà perché questo progetto è in rallentamento e forse non lo vedremo mai realizzato ma sicuramente questo è uno dei progetti che mi mette più curiosità in quanto ci potrebbe essere una rielaborazione del racconto di Charles Dickens né magari in un simi musical che potremmo vedere su Disney Plus direttamente. Chiudiamo la carrellata dei prossimi futuri live action Disney con La Spada nella Roccia e Atlantis L'impero perduto. Questi due film non hanno né regista né ulteriori informazioni ma è evidente che la Disney vorrebbe portarli sullo schermo o direttamente su Disney Plus ma non abbiamo dettagli o rumor da potervi raccontare secondo noi sono due ottimi film che si potrebbero veramente realizzare in ottimo modo quindi attirare molta gente in quanto non dovrebbero esserci grandi stravolgimenti sul racconto principale la speranza nostra è proprio questa ragazzi vi ringrazio per avermi seguito fin qui io vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube e cliccare sulla campanellina e ricordo di seguirci sui nostri canali social Instagram e Facebook per tutte le ulteriori informazioni per quanto riguarda la Disney e molte altre cose grazie a tutti da Valerio Perrone e da Ciaccazione buona giornata